salve a tutti ragazzi sono legomaster e oggi siamo tornati di nuovo su fortnite con mio cugino da quanto tempo veramente da tantissimo tempo ecco essi oggi ci andremo a sfidare di nuovo in 1v1 dopo quasi un anno che non ci sfidiamo giusto prima di iniziare con il video vorrei salutare dark age che si è unito al mio canale discord quindi se volete essere salutati in un mio video entrate nel mio server discord vi lascio ovviamente il link sotto in descrizione passate anche dal dal canale di mio cugino che anche lui in canale e niente direi di cominciare allora siamo in creativa abbiamo come armi a disposizione un r blu pass viola e dei cd allora quanti round facciamo e di coprire ci round facciamo sì ok il primo round tra tre non sono abitare 1 ok prima era un iniziato io ho appena cambiato i tasti quindi non infatti si vede che non sarà molto forte comunque già si vede che non si vede che non si vede ragazzi queste scelte maia è una serata comunicazione al cd già dobbiamo concentrarci tanto pure lui pure lui sta registrando un video quindi andatelo a vedere andato con la mira non si vede che non mi sa pensare ma la mia non ci sei e certo che si vede con gli anzi facciamo gli scegli un poquini Eccolo Ok raga lui sta cercando di salire No ragazzi l'ho fatto cadere C'è lui pure io Raga lui mi vede per farza Ah vai Aspetta aspetta 3 Se sarebbe il terzo round perchè il secondo non Non ho registrato non ho registrato Vabbè lo vedrete nei miei video Lo vedrete nei miei video se è rinunito Non ho registrato Vabbè lo vedete Se ci riesco Come son caduto? O se no ci mando la o se no ci mando la clip dalla mia prospettiva Non sono incasso Eh io no io so buildare con il cane 90 qua volano però eh La serata Ah mi son incastrato? Ok E' caduto No che stasso dai Vai Si sa perchè quando registro C'è quando non registra Tu ma devi smettere di farmi cadere giusto? Pezzo di pane Sono caduto pure io guarda Non è che son caduto ma proprio volevo cadere Cos'è il problema? Cos'è il problema? Sì Va bene grazie Ma non riesco a curarmi Sì Ok ragazzi non è proprio scemolo Eh eh Certo Tipo lui ha pochissima vita Eh niente Sì capito da Eh vabbè si è cambiato Qua terzo o quarto round No Terzo Siamo al terzo Ma che cavolo Ti scusami Se io non ho 22 E tu ne ho 21 Si che cavolo dice che siamo al quadrata? No adesso siamo al quadrata Sì capito da Prima cosa sto facendo Ragazzi devo prendere la mia tecnica Ragazzi sto sto impazzendo un poco Con l'edit qua Sì capito da Build ora Ti ho lisciato con tutti i colpi Ma cosa? Ma cosa? Ti ho lisciato con Round numero 4 No Round numero 5 No Round numero 5 3 2 1 Via Non ci faccio più Buildare però Mi stanno distruggendo le dita Faccia Guarda Guarda Guardatelo Non è che Pensa troppo al Build Proprio bene Ah Lui pensa solo a vincere Visto ragazzi? Guarda che mi ha messo una piramide No 122 Ci arriva un messaggio Dal playstation D'altro lui gioca pure Da playstation Quindi Tipo Fingato Peggio di me Però Gioca sempre Dalla play Ma perché non ti prendo mai? Se scusami che cavolo hai Il viscio completo Può essere sempre lisciato Quindi Che ho preso? E no Ma scherzi? Sappi che non ti metterai mai A prendermi l'attezza Ma lui non ha solo Vi sa quelli Perché lui sicuro È tipo 100% Non mi piace Questa cosa Via Allora Build Come un cagnolino Arrabbiato Che abbaia Come una papera Ma cosa? Supererro No Sono 67 di vita Non vorrei morire Così Come fa che sia 67 di vita? Infatti sono No Veramente sono Discire 67 Ero 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 Incastrato Perché si vede Che non sai Intanto Devo giocare Cambia Cambia Gioco Per favore Gioca Dalla Bord Ero Ero Il gioco Per te Io spano Come i cani Eh L'ho visto No No Guarda Guarda Come si parla Guarda Come si parla Guarda Come si parla Cioè si sto laggando pochino Però dai Io 60 Di solito Ho 3 Non l'ho serato Non mi ha sparato il pompa Va bene Va bene Guarda 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 2 1 Via No No Stavo laggando Però Fatti Il gioco Ma A me Non l'evolume Tipa Ero Sotto Eh Vabbè un po' da parola, tu fai schifo tutte scuse, tutte scuse ma che tutte scuse scusami ora voglio vedere se cadi tu sotto voglio vedere le tue scuse che userai tu cadi sempre sotto di solito abbiamo noi l'altezza e ce la vogliamo penultimo round ah penultimo round sembrava l'ultimo bello che domani non c'è scuola oggi è venerdì ragazzi che bene poi forse pure lo vedrete sabato perchè io ci metterò solo un giorno ad evitarlo io ti ho distrutto se no sto video lo chiamo speciale se non lo so registrato via ultimo round se no mi sono incastrato io invece di incastrarlo a lui devo usare la tecnica di uno stupido per incastrare le persone però non l'ho fatta perchè sennò non dire cosa ho pa non sapevo che secondo te non sapevo costruire io no la tecnica di uno stupido ragazzi non sa ok eh va bene 7 a 4 ho vinto comunque allora questo video finisce qua iscrivetevi al canale lasciate un like a tutti i video e anche a questo ovviamente attivate anche la campanella per non perdervi nessun video eh questa sfida l'ho vinta io ma eh purtroppo eh giustamente lo schifoso vince tutte le sfide perchè lui stava laggando quindi ha perso ragazzi vi posso dire una cosa tutte quelle che ho detto sul mio video non è più vero ragazzi non l'ho registrato e niente da Legomaster è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video e una prossima live ciao si grazie